Ciao a tutte! Allora prima di mostrarvi il tutorial ho deciso di fare una piccola introduzione a questi nuovi video che ci saranno sul mio canale. Questo appunto è il primo video tutorial sulla pole dance e ho deciso di fare questi video perché mi servirà, è una cosa che mi servirà per il futuro. E quindi se voi avete già praticato pole dance e volete darmi qualche consiglio vi invito a lasciarmi un commentino e se iniziate adesso a praticarla e magari non capire qualcosa durante la spiegazione vi invito lo stesso a farmi qualsiasi tipo di domanda. Questo è tutto e buona missione! Come avete visto la figura è molto semplice ma già da questa figura dobbiamo imparare a capire in che modo posizionare il primo piede che va a toccare il palo. Per eseguire questa figura sono partita con la gamba destra, quindi la gamba destra è la prima che è andata a contatto con il palo. In che modo va posizionata? Prima di tutto la parte esterna del piede va a spingere contro il palo, la parte interna del ginocchio anche, in modo da creare una pressione da ambo i lati e riuscire a rimanere salde al palo. L'altra gamba va ad incrociarsi sopra la gamba destra. Una volta che siamo in questa posizione dobbiamo tirarci su e avvicinare il più possibile il busto al palo, in modo che il ginocchio si scosti dal palo e il palo va ad attoccare l'interno coscia. Ve lo faccio vedere da questa prospettiva che si capisce meglio. Siamo in questa posizione, la gamba sinistra va sulla destra e il corpo si avvicina al palo. Tutto questo mentre ci tiriamo su. In questa posizione ci teniamo con la parte esterna del piede destro, in questo caso perché la gamba destra è la prima che è salita sul palo, e con l'interno coscia dobbiamo stringere il più possibile il palo. Le mani le possiamo posizionare davanti, giù, dove ci pare, una su, una giù o muoverle. Questo è il sitting on the pole. Ve lo faccio vedere con l'altra gamba. Gamba sinistra al palo, mani all'altezza del viso, gomiti bassi, ci tiriamo su, portiamo il busto in avanti e con l'altra gamba incrociamo sulla gamba sinistra e lasciamo le mani. All'inizio fa malissimo nell'interno coscia, ma poi ci si abitua. Provo anche davanti la camera, metto il piede, le mani, gomiti bassi, tiro su, avanti il busto, incrocio e lascio. Questo è il sitting on the pole, che è alla base di altre figure che vedrete nei prossimi tutorial. Spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci sentiamo presto. Ciao!